Allora, adesso abbiamo un grado tra cui l'esecuzione forse può si perdere nella notte dei dei, è stato scritto tantissimi anni fa, che l'abbia scritto un po' più troverso, però c'è una bellissima storia, non so quanto questa storia sia reale o sia a punto della fantasia o più semplicemente nel trascolare del tempo, parla di questi altri di schiavi, un signore che ha fatto veramente una grande fortuna commercializzando esseri umani che erano semplicemente di un colore diverso, però un giorno ha avuto un'illuminazione, si è reso conto di quello che stava succedendo, delle malari che stava facendo e così ha avuto una grazia meravigliosa, una conversione, ha deciso di lasciare tutti i suoi menali, ha deciso di seguire la via del Signore e ha scritto questa meravigliosa canzone, che si titola Amazing Grace. La maggiora del 22 dicembre 2013 con lo Cosped, l'ultima stava sia maggiore nella parrucchiala di San Costantino Magno. La maggiora del 22 dicembre 2013 con lo Cosped, La maggiora del 22 dicembre 2013 con lo Cosped, La maggiora del 22 dicembre 2013 con lo Cosped, La maggiora del 22 dicembre 2013 con lo Cosped, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.